buongiorno buongiorno amici ed amiche del canale buongiorno dal vostro Nico Juve buon sabato a tutti buon pranzo a tutti buon fine settimana a tutti mi raccomando al solito prima del video iscrizioni al canale forza saliamo sempre di più like anche a questo video condividete il più possibile e attivate la campanellina per rimanere sempre comunque aggiornati e aggiornate sui miei contenuti qualora foste interessati detto questo non poteva non mancare devo continuare un attimino un qualcosa di lasciato in sospeso che secondo me merita un attimo di riflessione da parte mia e da parte vostra non poteva non uscire il comunicato il saluto il giusto tributo e saluto da parte di andrea agnelli ad allegri e da qui si denota e si evince la differenza di stile la differenza di modus tra un agnelli e il nulla sta proprio qui quella quel modus operandi che da sempre ha contraddistinto quelle che sono le forme gli stili la passione che la famiglia agnelli aveva e dava a noi tifosi come soddisfazioni calcistiche come per carità anche delusioni ma la vita sportiva calcistica è fatta anche di questo e lo sappiamo benissimo di gioie e dolori ma grazie a dio sono state molte più le gioie dei dolori però questo fa ancora capire ancora una volta ulteriormente della differenza della pasta tra un vero agnelli e un qualcosa che non sono non sto neanche a definire perché potrei definire la persona in maniera troppo aggressiva e offensiva e ledere la sua immagine visto che lui si preoccupa che non venga lesa la sua immagine per quello che ha fatto allegri mentre di continuare a ledere quelli che sono i nostri sogni e di prenderci per il culo su questo non si sofferma perché non ne ha interesse alcuno anzi anzi continua imperterrito nelle sue nelle sue diciamo nei suoi modi di operare è una cosa che mi è sfuggita sempre per far capire qualora ce ne fosse ancora motivo o diciamo ancora testimonianza di quello che è il suo modo di fare alla vittoria della coppa italia questo molti di voi sicuramente lo sapranno ma è giusto menzionarlo ed è giusto dirlo perché nelle cose normali della vita in chi comunica anche sui canali penso sia anche doveroso mettere a conoscenza tutti di ogni piccola sfumatura e credo lo sia sia anche corretto alla cena della squadra nel post vittoria contro l'atlanta della coppa italia l'unico dirigente che hanno mandato l'unico dirigente che hanno mandato scandaloso non agghiacciante quello che mi hanno fatto ma scandaloso quello che hanno fatto e come si sono comportati per tenere fede alla loro scelta di eliminare l'ultimo baluardo di andrea agnelli ossia ovvero massimiliano allegri hanno mandato soltanto gialluca pessotto a cena con i ragazzi con lo staff e con l'allenatore per festeggiare la coppa italia questo fa parte del dell'indecenza di questa società di questa gestione di questo uomo che continua a dare secondo tanti i pieni poteri aggiuntoli che ancora ahimè non ha capito che non conterà un cazzo che una pedina in mano sua e che che se ne dica per quanto lui si possa sentire forte spalleggiato da questo grande incarico che gli ha messo in mano john elkan c'è lui che ha tutti i pieni poteri e la piena responsabilità di tutto quel che verrà non ha capito che questo boomerang gli si girerà dietro al culo perché al momento in cui fallirà o non vincerà o inizierà a fuoriuscire merda appalate per qualche motivazione illogica così come è accaduto in questi ultimi tempi sarà lui l'unico artefice e l'unico stupido che ha sbagliato le cose quindi ancora una volta l'ingegnere se ne uscirà pulito e lindo come mastro lindo quindi pensate quanto lui possa essere furbo e pensate quanto possa essere stupido quanto possa essere stupido giuntoli a non aver capito che nel fare il gioco di elkan ossia di eliminare e mettersi contro allegri non farà altro che puntarsi un qualcosa alla tempia perché nel momento in cui sbaglierà progetto calciatori comportamenti gestioni di qualsiasi genere verrà eliminato e buttato fuori dal tavolo così come quando si fa scacco e si tira giù la pedina sarai anche tu una pedina aggiunto il capirai nel tempo cosa vuol dire ma vi ripeto era una piccola postilla e digressione che era giusto fare perché anche questo era molto molto importante interessante per continuare a far capire lo stile agnelli chi era la famiglia agnelli e lo sappiamo tutti come ha sempre adoperato e come se sempre rapportata e comportata la famiglia agnelli e non si va a chiedere scusa alla figicia gravina john elkan non ci si continua a calare le braghe sotto questo punto di vista va bene perché ti ricordo che è già anche patteggiato quindi anche aggiungere queste scuse continuare ad abbassarsi i pantaloni e veramente non lo so come come poterlo definire uno schifo una di una non non lo so credimi non non so neanche come poterti definire perché ogni parola da me espressa potrebbe essere inferiore a quello che vorrei dirti dal punto di vista offensivo perché veramente una 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 stronzata dietro l'altra un denigrare prostrarsi e annientarsi al cospetto di tutto e tutti che io sinceramente tutto questo schifo dal grandissimo gianni agnelli a umberto agnelli ad andrea agnelli tutte questa merda io messa insieme non l'avevo mai ascoltata né vista mi raccomando aspetto i commenti al solito nel post video un grande abbraccio al vostro youtube e al prossimo ciao